buongiorno a tutti buongiorno 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 e siamo ancora qua che video fai della festa del centenario dell'aiuto? no lo facciamo più tardi sul tridente non lo voglio fare qua ne facciamo uno insieme io Luca e Dani e tu dici adesso che cazzo vuoi voglio fare un video scherzi a parte non mi fate cazzare stamattina allora stasera questa sera questa sera questa sera non lo so c'è qualcosa nell'aria stasera che non si può non si può spiegare a meno che allora questa sera ci sarà la live sul canale Formula Juventus allora faccio questo video perché chi non segue le live deve sapere che abbiamo formato questo campionato mondiale di Formula 1 giocato alla Play 5 è il mercoledì sera ogni 15 giorni però adesso visto la Pasola nazionale abbiamo fatto tre mercoledì attaccati quindi mercoledì scorso questo e anche il prossimo si svolgerà la gara non chiedetemi qual è il circuito di stasera perché non me lo ricordo però si svolgerà la gara e quindi e quindi faccio questo video soprattutto per chi non non segue le live e guarda solo i video allora io vi metterò il link qua sotto adesso di quel canale lì che è il canale di mio figlio è il canale di mio figlio di mio figlio di Alessandro Formula Juventus Formula Juventus vi metterò il link mi fate una cortesia non fatemi figurare male con mio figlio se no vi vengo a prendere uno per uno allora iscrivetevi al canale è una cosa che possiamo garantire quando c'è la live le risate non mancano questa è la mia maiora io non sono pratico di quindi l'ho fatto proprio per passare due ore proprio che porti via la mente e i problemi li accantoni un attimo no? perché io che sono un incapace con il joystick in mano però però se questa sera arriviamo a mille perché siamo già quasi a 600 iscritti sul canale collegatevi perché vedrete una delle partenze più belle che avete mai visto su un circuito di Formula 1 a livello mondiale voi voi iscrivetevi voi iscrivetevi e ci vediamo stasera alle 21.25 21.25 stasera iscrivetevi al canale Formula Juventus canale di Alessandro Bianco di mio figlio stasera lo voglio vedere a mille e quando lo vedrò a mille la partenza sarà pazzesca fino alla fine forze Juventus è